Adesso la parola va al consigliere De Vito. Può confermare questa circostanza, Presidente? Le confermo questo, ma non so che abbia fatto scrivere il consigliere Marchini tra gli interventi di questa mattina. Grazie. Ok. Io non posso consentire questo, però comunque vedo nell'elenco il nome di Marchini. Le chiederei di far mettere a verbale l'espressione che ha appena utilizzato il consigliere Onorato, che lei ha sentito benissimo perché gliel'ha detta da un metro di distanza, quindi le chiedo di farla mettere a verbale. Tutto il consiglio verbalizzato, non si preoccupi, grazie. Quindi chiederò dopo di verificare il verbale affinché sia presente questa espressione che lei chiaramente deve aver sentito perché gliel'ha detta da un metro di distanza. Grazie. Cominciando, intanto prendiamo atto con piacere che quantomeno oggi la maggioranza abbia raggiunto il numero legale, nel senso che quantomeno con il consiglio chiamato in seconda convocazione, quantomeno oggi siete stati capaci di radunare 16 consiglieri su 48, anche se al momento sui banchi della maggioranza, io sarebbe veramente da fargli le foto, ne vedo due, vedo palumbo e stampete. Anche questo è il sintomo e l'evidenza di come stiate letteralmente franando e dimostrare la vostra incapacità, incapacità, Presidente le chiederei di non essere interrotto, incapacità di governare questa città. Quindi francamente risulta anche difficile fare un discorso sul bilancio e poter interloquire con questa maggioranza dal momento che questa maggioranza non c'è. Vediamo lei, Presidente o Vicepresidente più correttamente dell'Aula, l'aggiunta non c'è, l'assessore al bilancio che sarebbe deputato ad ascoltare quello che noi andiamo a dire in quest'Aula, poi ci chiediamo come si possa fare un dibattito, se l'assessore al bilancio non c'è. Ovviamente non c'è neanche il sindaco, sindaco di Roma, che in Aula non vediamo mai, lo vediamo ogni tanto, gli ultimi cinque minuti, quando si vada a provare qualche delibera importante, importante è una parola grossa, qualche delibera come la delibera 88, con cui avete svenduto il patrimonio immobiliare di questa città e di cui parleremo molto a breve, quindi vedremo molto probabilmente il sindaco Marino a entrare in quest'Aula agli ultimi cinque minuti, magari quando farete vedere alle due di notte, perché questo è l'orario canonico in cui si fa vedere che avete approvato il bilancio, come a far vedere che avete lavorato, quindi verremo il sindaco Marino tornare in Aula gli ultimi cinque minuti e venire a festeggiare l'approvazione di questo bilancio indegno, terzo bilancio dell'era Marino, ancora più indegno dei precedenti. Perché dico indegno? Ricordo assai bene le parole del sindaco, un anno fa, quando, come dire, batti beccando col vostro premier, col premier Renzi, diceva, affermava, orgogliosamente anche, io non farò il liquidatore di questa città, non svenderò il patrimonio, non venderò le sue società municipalizzate. Ebbene, presidente, o meglio vicepresidente, perché il presidente non c'è, il sindaco non c'è, la giunta non c'è, la maggioranza di fronte a me non ci stanno, come sempre. Il liquidatore è esattamente quello che sta facendo il sindaco Marino. È quello che cominciamo a vedere su questo bilancio, dove prende forma questo vostro programma di liquidazione della città di Roma. Ebbene, il sindaco Marino, su tutti i giornali, ha detto che farà il sindaco di Roma fino al 2023. Speriamo veramente, ma lo dico veramente col cuore, lo dico veramente con convinzione, lo dico veramente con l'anima e con la passione che ci stiamo mettendo, che ciò non avvenga, perché sarebbe veramente un disastro per i cittadini romani. Significherebbe davvero svendere la nostra città. Dicevo, il sindaco disse, non farò mai il liquidatore. È esattamente quello che sta facendo. Su questo bilancio, questo progetto sta prendendo forma. Infatti, non ci sono più i soldi del Salvaroma, che vi hanno salvato in occasione del primo bilancio, il primo Salvaroma, o in occasione del secondo bilancio, il Salvaroma-Ter. Su questo bilancio non c'è più il governo che vi viene a dare una mano, che viene a dare una mano alle vostre inefficienze, alle vostre incapacità di tagliare gli sprechi che ci sono nel bilancio del Comune di Roma, nelle sue tante voci, nei tanti dirigenti che continuate a nominare. una capacità di aumentare le entrate del Comune di Roma, come vi dice l'Oref, ad esempio per quanto riguarda gli affitti passivi. E quindi che cosa fa il nostro sindaco? liquida la nostra città. A cominciare dalla vendita del patrimonio immobiliare, dalla delibera indegna che avete fatto passare la scorsa settimana e che non vediamo però stranamente ancora pubblicata, forse per le visite che avete ricevuto in Campidoglio riguardo a questa delibera nella precedente settimana, per le tante denunce, per gli esposti che abbiamo fatto, una delibera con la quale, per andare a ripianare i buchi che ci sono su questo bilancio, questa è la verità, perché su questo bilancio mancano 300 milioni di euro, 300 milioni perché ormai la pressione, il livello di tasse, l'imposizione fiscale che avete portato, sia sul precedente bilancio 2014, che su questo previsionale, su cui ci sono ulteriori aumenti di tasse, servizi a domanda individuale, gli asili, la tassa di soggiorno, quindi dicevo, per appianare questo buco, questa mancanza di 300 milioni, la genialata che tira fuori questa giunta, che si era presentata ai cittadini con un programma che si intitolava Roma Bene Comune, o comunque che era un'esaltazione dei beni comuni dei cittadini romani, quindi anche delle nostre società, anche del nostro patrimonio, la genialata che vi è venuta in mente è quella di svendere il patrimonio immobiliare, quindi non avete fatto quello che vi abbiamo consigliato dal principio della consigliatura, ma non ve l'ha detto solo il Movimento 5 Stelle, unica forza di opposizione vera in questa battaglia che c'è stata sul patrimonio, e lo dico a ragion veduta, per il semplice fatto che anche la ex maggioranza di centrodestra, che ha fatto finta di opporsi a questa delibera, nella precedente consigliatura fece in realtà una delibera identica, la 43 2012, i cittadini possono leggerlo, mettere questi due numeri su internet, 43 2012 immobili, e vedranno che anche la precedente maggioranza stava cercando, oggi ha fatto finta di opporsi, ma in realtà tentava di vendere gli immobili, sostanzialmente gli stessi immobili, vedo qui tre decine, cantiani, anche loro votarono favorevolmente quella delibera, delibera 43 2012, addirittura dichiaravano di vendere quel patrimonio immobiliare a 247 milioni, ora non comprendiamo come lo stesso patrimonio immobiliare, voi in delibera, indichiate un valore più alto, 306 milioni, in una fase nettamente più recessiva del mercato immobiliare, quindi ci chiediamo come pretendiate di arrivare a quella somma, e infatti non ci si arriva, non ci si arriva per il semplice fatto che quel valore è un valore totalmente indeterminato, come vi abbiamo già detto nell'esposto, e come faremo negli ulteriori atti che presenteremo all'autorità giudiziaria per quella delibera. Infatti manca una stima dei singoli immobili, il valore dei singoli immobili non è indicato in delibera, quindi non si comprende come si arrivi al valore di 306 milioni. Inoltre stavate svendendo con sconti, e questo per fortuna siamo riusciti a evitarlo, ma all'emendamento numero 5 a firma del Presidente della Commissione Patrimonio, Pedetti, ce lo ricordiamo bene, con sconti che addirittura arrivavano al 40% in favore di determinati soggetti. Poi abbiamo anche tirato fuori storie interessanti su qualcuno di questi immobili, come quello che avete affittato a una ben nota cooperativa immobile di 1000 metri quadri e 2400 scoperti che avete affittato, a differenza di quello che hanno scritto i giornali in questi giorni, come ad esempio un noto giornale, quell'immobile alla cooperativa gli è stato affittato non in forza di un verbale di una commissione patrimonio, ma con delibera di giunta 312, 312 del 24 ottobre 2014. Anche questo i cittadini che mi ascoltano noi siamo certi di quello che diciamo e abbiamo la forza della conoscenza degli atti, quindi delibera di giunta 24 ottobre 2014 numero 312. Avete affittato questo immobile di 1000 metri quadri coperti e 2400 scoperti a questa nota cooperativa per un valore finanche inferiore e 15.000 euro anno quindi parliamo di 1200 euro mese e anche questo immobile giustamente lo avete messo tra quelli che saranno oggetto di vendita. La cosa ancora più sorprendente e questa è la prova di quello che diciamo vale a dire che deve essere fatta come lo dice l'OREF non ve lo diciamo non ve lo dice l'organismo di revisione una puntuale anagrafe del patrimonio immobiliare che neppure il comune conosce bene il proprio patrimonio. Questo si evince proprio da questo immobile dai documenti collegati alla delibera riguardo a questo immobile infatti quando e abbiamo dovuto faticare con Daniele Frongia l'ira di Dio veramente per avere questi documenti che alla fine ci avete dato e che non formano parte integrante della delibera quando si tratta di valutare di fare la valutazione di questo immobile riguarda la vendita ovviamente questo elemento non fa parte della delibera ma fa parte di elenchi che ci avete consegnato e sulla base dei quali avete fatto questa delibera illegittima il valore in termini di metri quadri incredibilmente quando si tratta di valutarne il prezzo il prezzo teorico diciamo così si riduce a 831 quindi non comprendiamo bene questo immobile quanto è? 831 come dite nella delibera svendipatrimonio o 1000 più 2400 scoperti come dite nella delibera numero 312 di affitto di affitto dell'immobile ce lo spiegate questo questo è l'evidenza in realtà non lo sapete neanche voi questa è l'evidenza che neanche voi sapete l'entità la determinatezza la consistenza del patrimonio immobiliare che state vendendo senza alcuna contezza state svendendo purtroppo avete già deliberato per la svendita del patrimonio immobiliare di noi romani senza avere una reale contezza di questo patrimonio non avete fatto quello che noi vi abbiamo detto ma che sostanzialmente vi dice anche l'OREF cioè fare un'anagrafe puntuale del patrimonio immobiliare del comune e come vi ha scritto l'OREF nella relazione su questo bilancio che ho qua sotto in uno dei primi punti vi dice che questi immobili tutti questi contratti di locazione dovrebbero essere adeguati sono immobili in centro che voi avete affittato a 30 40 50 70 euro molti di questi li avete tenuti fuori chiaramente dalla vendita come le sedi dei partiti perché quelli fanno comodo fanno comodo affittati a questi prezzi ebbene l'OREF vi dice fare un'anagrafe puntuale del patrimonio immobiliare esattamente quello che noi vi abbiamo detto e che voi non avete fatto tanto perché non siamo collaborativi saremmo ben pronti a collaborare invece sulle cose utili per i cittadini che voi puntualmente puntualmente non fate altro discorso altro discorso poi riguarda riguarda la altro discorso poi riguarda la destinazione di questi soldi perché vi abbiamo detto va bene dovendo proprio vendere quantomeno siamo riusciti ad evitare gli sconti quanto meno che questi soldi vadano per le cose utili per i cittadini quindi per la manutenzione straordinaria della città quella che serve le nostre strade sono a pezzi ogni giorno la gente muore le nostre scuole cadono cadono a pezzi c'è un problema dell'emergenza abitativa visto che il comune continua a spendere 41 milioni di euro all'anno per i residents perché non ristrutturiamo il patrimonio immobiliare esistente anche per risolvere l'emergenza abitativa ebbene anche su questo anche su questo picche quindi del tutto discutibili gli impieghi con cui alla fine avete indicato in questa delibera come ad esempio non meglio precisati scopi culturali oppure costruzione di nuovo ERP come se in questa città non si fosse costruito già abbastanza ma voi continuate a costruire anche qui a dispetto di quelle che erano le previsioni del vostro programma con cui a questo punto possiamo dirlo è ufficiale è stata una presa in giro avete preso in giro 2 milioni e 800 mila romani come quando avete detto che sarebbe stata una città a misura di bambino lo abbiamo visto ad esempio con la delibera sullo stadio ed anche lì si è aperto un fronte giudiziario con cui in barba a quelli che erano gli impegni della campagna elettorale avete disposto la realizzazione di un altro milione di metri cubi di cemento tanto perché doveva essere una città a misura di bambino quindi anche qui avete tradito il mandato con i vostri elettori liquidazione si diceva questo è il bilancio su cui sta effettivamente prendendo forma questo progetto di liquidazione assicurazioni di roma farmaca pacea la stessa quota del 51% di multiservizi avete disposto la liquidazione di assicurazioni di roma le chiedo presidente azzuni visto che lei è stata tanto impegnata sul fronte di questa società nella precedente consigliatura se lei è d'accordo ad esempio su questo una società che da 16 anni che da 16 anni realizza utili che svolge un servizio per per il comune voglio vedere se effettivamente quali sono abbiamo chiesto più volte all'assessore quali fossero le certezze di questa giunta riguardo al risparmio che si andrà a fare sui costi di polizza non ce ne sono non ci sono stati forniti non abbiamo un preventivo che ci dice che effettivamente il comune di Roma andando a scegliere un'altra assicurazione andrà a risparmiare abbiamo anche proposto perché non si fa una gara se ci sono tutti questi fenomeni perché non si fa una gara per vedere allora effettivamente chi è più concorrenziale se arriva uno più bravo complimenti anche questo non è stato fatto quindi prima si decide di mettere in liquidazione assicurazioni di Roma lo ripeto una società che è stata ed è da 16 anni inutile quest'anno un utile di 22 milioni al netto delle imposte se hanno fatto degli investimenti e se ciò è regolare beh complimenti alla società che è stata in grado di farli quali sono le certezze che ha questa giunta che si andrà a fare un risparmio beh certamente una volta liquidata l'assicurazione di Roma e quindi una volta anziché rivolgersi a una mutua del comune una volta che si andrà sul mercato certamente questa fetta cioè la fetta di assicurazioni del comune di Roma delle sue società di Atac di Ama sarà una fetta importante che ancora una volta daremo al privato però voglio chiedere una cosa all'assessore gliel'ho chiesto e anche su questo non ho ottenuto risposta ma gliel'hanno chiesto anche i dipendenti di assicurazioni di Roma nelle tante commissioni che sono state fatte le solite commissioni ormai in cui la giunta non risponde neanche più chi li pagherà consigliere Azzuni visto che anche lei è competente del tema chi li pagherà i costi per la liquidazione di assicurazioni di Roma perché una volta che assicurazioni di Roma verrà posta in liquidazione verranno ritirate le licenze la società non fatturerà più avrà soltanto dei costi ci viene il dubbio con quale modalità si vogliano coprire questi costi io non vorrei che l'organismo di revisione è un dubbio che pongo lì ma che credo tanto che sarà fondato che l'organismo di revisione che l'autorità di vigilanza mi scusi richieda una ricapitalizzazione di questa società perché allora chi l'andrà a pagare questa ricapitalizzazione ovviamente l'andremo a pagare noi romani noi cittadini con le nostre tasse che continuano ad aumentare e la circostanza che su questa società in passato e mi riferisco senza mezzi termini alla consigliatura alemanno siano stati fatti degli errori vi sia stata una gestione non perfetta diciamo così tanto per esaurire un eufemismo il caso delle polizze emesse in copertura e non riscosse né all'emblema beh il fatto che vi sia stata una cattiva gestione non deve essere il presupposto della liquidazione di un servizio pubblico perché altrimenti oltre al danno riceviamo anche la beffa comunque visto che in quest'aula nei giorni passati ho sentito interventi anche di consiglieri di centrodestra riguardo a questa società beh sinceramente dopo quello che abbiamo visto nella gestione di assicurazioni di Roma sotto la precedente consigliatura noi personalmente questo diritto di intervento non glielo riconosciamo perché se la società è su questa soglia è anche soprattutto per quello che abbiamo visto durante la consigliatura alemanno comunque le ripeto Presidente Azzuni la mala gestione di una società non deve essere il presupposto per la sua liquidazione o per la sua vendita e quindi per la cessione al privato di un'altra fetta di servizio pubblico perché altrimenti oltre al danno riceviamo anche la beffa che è esattamente quello che stiamo vivendo anche con Farmacap la stessa cosa la sta facendo qui il Comune con 44 farmacie noi ci domandiamo come è possibile che il Comune abdichi e che il Comune rinunci a fare utili e quegli utili a reinvestirli in un servizio per i cittadini con 44 farmacie chiaramente questa delibera che è la numero 11 2014 la delibera svendi società ve l'abbiamo emendata in ogni punto e invitiamo tutti i consiglieri di maggioranza e anche lei consigliere Azzuni che sappiamo essere sensibili su questi temi a ragionare a ragionare su questo e a valutare quali siano le aziende da stralciare noi non diciamo che nessuna azienda deve essere venduta certamente ci sono alcune aziende che sono effettivamente inutili Centro Ingrosso Fiori non ha venduto un fiore è chiaro che la galassia delle partecipate del Comune di Roma deve essere sfoltita ma è un errore partire da queste società partire da Farmacap che svolge un servizio di tutela di prossimità di tutela sanitaria sul territorio anche in zone periferiche spesso oltre il raccordo che sono poco servite non è questo l'intervento che bisogna fare tagliamo gli sprechi veri tagliamo gli sprechi veri che ci sono nelle principali società municipalizzate del Comune di Roma quegli sprechi che voi stessi avete riconosciuto nel piano di rientro e su cui non siete in grado di intervenire mi riferisco ad esempio ai 70 milioni di Atac ai 93 milioni di Ama tagliamo i tanti posti da dirigente che ci sono in queste in queste società facciamo un'attenta verifica degli appalti ma è sbagliato vendersi Farmacap e le sue o liquidare Farmacap e vendere le sue 44 farmacie anche questo sarà un mercato appetibile su cui il privato e ne abbiamo una certa consapevolezza da questo punto di vista il privato si avventerà perché chiaramente 44 farmacie fanno gola a tutti altro grande errore la vendita della quota che il Comune detiene direttamente in Aceato 2 il 3,52% che il Comune di Roma detiene in via diretta su Aceato 2 controllata di Acea forse abbiamo capito male forse abbiamo capito male che nel 2011 i cittadini romani con un referendum anche voi di sinistra o pseudo sinistra vorremmo anche che i cittadini lo capissero che ormai il PD di sinistra non ha più nulla anche voi sbandieravate tanto quel referendum con cui i cittadini avevano detto che l'acqua deve essere pubblica che i servizi devono essere pubblici sbaglio o il 95% dei cittadini romani aveva affermato questo l'acqua pubblica poi ribadito dalla Corte Costituzionale poi ribadito dalla sentenza del 25 gennaio 2013 del Consiglio di Stato ebbene anche qui continuate con la vostra politica ormai il quadro è chiaro vi siete presentati con un programma che valorizzava i beni comuni abbiamo capito che è stata una presa in giro e che il sindaco sta facendo proprio quello che un anno fa aveva detto che non avrebbe mai fatto vale a dire il liquidatore di questa città quindi anche questa quota di Acea quindi della di Acea Todue della parte buona diciamo così produttiva anche questo pezzo questo gioiello di famiglia ve lo venderete ve lo venderete per questo programma che il sindaco ha di mettere le luci a led per effettuare risparmi sull'illuminazione effettivamente anche questo un altro spreco enorme noi verificheremo se effettivamente farete farete questo dicevamo all'inizio dei 300 milioni di buco su questo bilancio a causa del livello altissimo di tassazione cui state costringendo i cittadini romani i cittadini romani sono quelli che pagano più tasse in assoluto l'IRPEF più alta d'Italia lo 0,9% visto che peraltro con una parte probabilmente i cittadini non lo sanno ma con lo 0,5 di questo 0,9% andiamo a pagare che sono circa 200 milioni all'anno qualcuno l'ha definita Veltron Tax andiamo a pagare i disastri che ci lasciò il sindaco Veltroni vale a dire la gestione commissariale i miliardi di debito precedenti al 2008 e che noi i nostri figli e probabilmente i nostri nipoti pagheranno fino al 2050 circa paghiamo la tari più alta d'Italia visto che si parlava di sprechi di ama ama un piano finanziario di da 800 milioni 800 milioni presidente quello collegato a questo bilancio comunque ne parlavo anche con il consigliere Stefano che è nella commissione ambiente quello collegato a questo bilancio ancora non l'abbiamo visto quindi sinceramente non abbiamo non abbiamo contezza quindi dicevo paghiamo le tasse più alte d'Italia e non a caso su questo bilancio registriamo mancate entrate per 300 milioni di euro segno evidente di una cosa presidente e signor sindaco che non c'è e sedia vuota e scranno vuoto del sindaco che ormai le tasse stanno a un livello insostenibile ebbene cosa fa questa maggioranza su questo bilancio dopo averle aumentate per 300 milioni sul bilancio 2014 questa maggioranza decide di alzarle quale miopia quale stupidità quale incapacità a governare anziché tagliare gli sprechi come vi dice Loref anziché puntare ad una politica più efficiente sulle entrate che si possono realizzare come vi dice l'Oref come ad esempio sugli affitti passivi come ad esempio sulle entrate di una società municipalizzata come Atac che incassa soltanto ed è proprio il caso di dire soltanto visto che ha un miliardo di passeggeri 282 280 milioni circa di biglietteria quindi anziché puntare a recuperare queste entrate evidentemente ormai avete abdicato il comune di Roma rinuncia ai propri affitti il comune di Roma quando deve affittare un immobile paga i massimi per le sedi dei gruppi per le sedi dei commissioni siamo arrivati a pagare fino anche 15 milioni di euro all'anno roba che ce li saremmo ricomprati dopo 8-9 anni quegli immobili quando si tratta invece di incassare sui propri immobili incassa sempre i minimi quindi diciamo dicevamo quale fantasia quale capacità quale grande capacità di governo avete la vostra soluzione per far fronte o meglio per non far fronte visto che i servizi sono quelli che vediamo ogni giorno mi pare anche inutile sottolinearli rispetto a questi banchi in questo momento totalmente vuoti adesso vi faccio anche una foto vediamo che c'è solo una consigliera di SEL questa è la maggioranza con cui noi dovremmo dialogare poi ci dite non dialogate io non so con chi dialogare sto dialogando con sedie vuote forse mi sto sfogando con i cittadini perché vorrei che capissero una volta per tutte che sindaco e che maggioranza hanno messo a capo di questa città e si ha anche il coraggio di dire di voler rimanere fino al 2023 fino al 2023 speriamo speriamo veramente di non doverla vedere quindi dicevo la vostra capacità si risolve in un aumento delle tasse nell'ennesimo che abbiamo visto su questo bilancio tassa di soggiorno complimenti veramente una grande genialata presidente sicuramente le associazioni di categoria vi ringrazieranno gliel'avete raddoppiata nel 2014 raddoppiata aumentata del 100% oggi che fate? grazie presidente signore Bordoni è apprezzato purtroppo il centrodestra dopo aver fatto gli interventi che ho già detto oggi neanche fa un po' di silenzio gliene siamo grati dicevo quale genialata da parte della della maggioranza aumenta la tassa di soggiorno però voi in campagna elettorale vi riempivate la bocca del solito slogan Roma deve vivere di turismo è vero è vero siamo la città più bella del mondo non si comprende come siamo al diciottesimo posto nelle graduatorie internazionali siamo stati superati anche da Istanbul allora la misura è quella di aumentare la tassa di soggiorno di aumentarla di un altro 50% sui 5 stelle questa è la genialata a cui a cui fate ricorso questa misura che cuba 4 milioni di euro per 4 milioni di euro a Roma i 5 stelle sono 29 molto probabilmente l'effetto che otterrete ne abbiamo già parlato con molti di loro è che molti di loro declasseranno la loro categoria a 4 stelle deluxe tutto questo per incassare altri 4 milioni non è questo quello che si dovrebbe fare presidente e signor sindaco che non c'è e non ascolta abbiamo fatto una serie di emendamenti a questa a questa delibera sulla tassa di soggiorno innanzitutto a Roma abbiamo 13 milioni di turisti che pernottano incredibilmente e solamente 2,6 notti è pochissimo allora la prima cosa da fare è introdurre un livello di sconto a partire dalla seconda notte altrimenti non avremo mai un aumento delle notti di permanenza a Roma altra cosa si è detto che un 10% deve essere di questa entrata che è circa 100 milioni quindi diciamo circa 10 milioni deve essere reimpiegato per fini turistici questo è giusto ma la delibera per come l'avete fatta è un mero pagliativo non si capisce dove vanno a finire questi soldi la verità è che questi soldi vanno a finire nel calderone allora anche su questo abbiamo fatto una serie di emendamenti per stabilire che effettivamente questi soldi siano impiegati per fini turistici e quindi affinché Roma campi di turismo perché Roma non campa di turismo senza soldi quindi per il decoro urbano per la mobilità per la sicurezza di questa città che è un tema molto avvertito e su cui questa giunta continua a essere deficitaria sulla sicurezza alle stazioni ma soprattutto sul recupero dell'evasione perché a quello che noi costa questa tassa su circa le 4 mila strutture esercenti alla fine la pagano mille circa mille strutture allora anziché continuare ad aumentare le tasse che è il principio che state applicando a livello generale sui pochi che pagano bisogna fare in modo che paghino tutti anche su questo le organizzazioni di categoria lo sappiamo vi avevano approntato un sistema software che con premendo un semplice tasto incrociandolo con i tanti siti internet noti che ormai operano nel settore su cui queste 4 mila strutture pure operano consentiva di verificare chi evade e chi no questa tassa di soggiorno e parliamo di un livello di evasione pari al 75% delle strutture quindi più che aumentare di 4 milioni sui 5 stelle è lì che bisogna andare a incidere è lì che si recuperano soldi e quindi è lì che bisogna investire risorse ma lo capisce anche un bambino ma solo voi non lo capite quindi vi era stato approntato un software si sono riservati anche la possibilità di vedere quante volte veniva utilizzato sapete quante volte è stato utilizzato dal comune di Roma zero zero volte allora abbiamo fatto anche degli emendamenti per fare in modo che una parte del 10% che viene reimpiegato per fini turistici sia impiegato anche per la messa in opera ed in esercizio di questo software che è fondamentale che va ad incidere proprio sul tema cioè sul recupero di un 75% di evasione quindi la misura da fare è questa non aumentare sui 5 stelle una misura che va a cubare 3-4 milioni che non si comprende che cosa ci facciamo la Tari anche questa continua a aumentare la tassa rifiuti paghiamo la tassa rifiuti più alta d'Italia ama un piano finanziario da 800 milioni fa venire i brividi questa somma ebbene il 55% di questa somma è pagata dalle imprese è assurdo ma è così quindi parliamo di 430 milioni circa che sono pagati dalle imprese romane che stanno morendo soffocate le imprese tutte quelle con cui parlo piccoli commercianti non riescono più dicono non riusciamo più a pagare la tariffa rifiuti ed anche qui avete compiuto un'anomalia perché c'è una legge la legge di stabilità la legge 147 e quindi anche su questo puntualmente siamo andati a demandarvi la delibera che stabilisce che chi già paga rifiuti speciali non può pagare anche la tassa rifiuti perché altrimenti paga due volte bene voi state ricorrendo anche a questo non sapendo più dove andare ad arruspare soldi come direbbero a Genova nella città del vostro sindaco voi fate pagare anche due volte le stesse cose su questa cosa ballano 20 milioni di euro quindi 20 milioni li recuperiamo da lì e così via discorrendo sui tanti servizi che state aumentando sui servizi a domanda individuale il trasporto scolastico le rette scolastiche che il TAR vi ha già dichiarato illegittime e che continuate ad aumentare continuate a far questo a cercare di tirar fuori di racimolare soldi tra una cosa e l'altra vendita del patrimonio aumento delle tasse anziché fare l'unica cosa che dovete fare cioè quello che l'Oref vi continua a dire su tutti i bilanci quindi una maggiore lotta agli sprechi ma è evidente evidentemente dopo due anni presidente o vicepresidente visto che il presidente non c'è il sindaco neppure c'è evidentemente esce fuori che su questi sprechi molto probabilmente non saprei cos'altro dire perché due anni iniziano ad essere un tempo sufficiente su questi sprechi da cui anche l'indagine che abbiamo visto ci ha dato una certa contezza che vi stanno in tanti capitoli del bilancio del comune di Roma evidentemente non avete capacità di agire evidentemente non avete capacità di agire perché altrimenti lo avreste già fatto come non siete in grado di agire sui mancati incassi che registra il comune questo pure vi dice l'Oref abbiamo citato il caso degli affitti delle mancate entrate che fa Atac come lo operate il controllo sulle società municipalizzate del cosiddetto controllo analogo non lo fate non lo fate perché il dipartimento che dovrebbe farlo è totalmente svuotato del proprio del proprio personale e quindi si arriva alla solita frase ma questa frase è una menzogna si arriva alla solita frase per cui si dice mancano i soldi è falso è una scusa non è vero che mancano i soldi i soldi ci sono si vorrebbero andare a recuperare sulle entrate sugli sprechi sulle tante nomine di dirigenti su cui state proseguendo e quindi mancando i soldi mancano i soldi per i dipendenti capitolini che sono qua fuori a protestare e da cui avete imposto una trattativa indegna nel corso dell'anno precedente con pistole fumanti messe sul tavolo con ricatti ed hanno ragione vi stanno fischiando ed hanno ragione li sento mi scusi mi scusi consigliere mancano tre minuti per la chiusura dell'aula e la sospensione la le chiedo di procedere alla conclusione grazie no mi scusi presidente io da quanto ho iniziato però perché io avrei 45 minuti sì lei li ha ma ha iniziato esattamente a 30 a 31 quando ho chiesto al consigliere che era di chiudere grazie e ora ho parlato 40 minuti quindi non ci sono i soldi per i dipendenti non ci sono i soldi per i concorsisti che state mandando al macero perché ci avete messo 7 milioni e 8 e parliamo e anche qui non state applicando un turnover vero 476 persone che sono andate in pensione e 250 che ne assumete ma è chiaro non ci sono i soldi perché continuate a sprecare e ecco lì che si mettono Presidente 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 se può togliere i cartelli farmi completare l'intervento concedermi gentilmente allora allora intanto intanto un attimo di calma un attimo di calma no Presidente Presidente le chiedo di sospendermi il tempo e di consentirmi di proseguire guardi le sospendo due minuti per piacere togliete dagli scranni manifesti consigliere De Vito prego tre minuti grazie tre minuti grazie Presidente da ora quindi dicevamo non ci sono i soldi è una falsità e così state mandando al macero i concorsisti le persone dello 060606 altro servizio che state localizzando i dipendenti della multiservizi i 48 dell'appalto del verde su cui non avete applicato le clausole di salvaguardia proseguendo un bando del precedente sindaco alemanno non ci sono i soldi per l'assistenza domiciliare agli anziani non ci sono i soldi per i disabili non ci sono i soldi per il trasporto pubblico locale visto che continuate a tagliare linee all'insegna di una cosiddetta non si dice taglio si dice razionalizzazione tutte queste cose sono l'evidenza l'evidenza del vostro fallimento in questi due anni avete dimostrato tutta la vostra incapacità e proprio su questo vorrei leggervi visto che tanto è impossibile ragionarne con voi perché sui banchi non ci siete alcune lettere che ci hanno mandato i cittadini ve ne leggo alcune caro sindaco gli istruttori amministrativi facenti parte della più grande procedura romana vogliono essere avviati al lavoro abbiamo superato un concorso e non possiamo essere chiamati in 20 o 30 all'anno che è quello che state facendo hanno ragione solo i vincitori dei posti banditi sono 300 e le carenze sono tantissime di più fra tutti i concorsi i vincitori sono 2.000 ne state assumendo 200 all'anno tra un po' li assumerete quando saranno vecchi e vado avanti con le lettere questo non vado avanti consigliere sono passati già anche tre minuti grazie concludo concludo presidente vorrei leggere un secondo concluda ma un secondo chiaro sindaco basta con le somme urgenze e hanno ragione perché state continuando anche su questo 200 milioni è chiaro che quando si affida in somma urgenza si fanno affidamenti di un certo tipo anche questa è la prova del vostro fallimento speriamo di non vedervi fino al 2023 ma speriamo che duri molto molto meno sì grazie presidente finisco l'intervento che avevo iniziato prima della pausa leggendo appunto le lettere che i cittadini ci hanno mandato perché a questo punto visto che i banchi della maggioranza sono vuoti in questo momento tre consiglieri che non ascoltano c'è il consigliere Erika Battaglia la giunta non c'è l'assessore al bilancio non c'è il sindaco ovviamente non c'è arriverà gli ultimi cinque minuti presidente dell'aula non c'è c'è la vicepresidente a questo punto come avevamo detto leggeremo le lettere dei cittadini gliene leggo alcune delle tante che ci hanno mandato a questo sindaco che dice di voler rimanere fino al 2023 ma noi speriamo vivamente che questo non accada caro sindaco vorrei sapere perché da ora in poi su un servizio di Roma Capitale di pubblica amministrazione il call center 060606 verrà gestito fuori dal territorio questo perché nel bando di gara non sono stati inseriti dei paletti che evitino le gare al massimo ribasso e che garantiscano la territorialità questa una dipendente dello 060606 vicenda che lei ben conosce presidente però questi lavoratori li avete mandati al macero e parliamo di circa 300 persone ancora assunzioni per vincitori di concorso qua invece parliamo soltanto di 2000 persone che hanno vinto il concorso e avrebbero la legittima aspettativa di essere assunti più 5000 idonei anche loro anche qui non state praticando un vero e proprio turnover dal momento che ne avete assunti 250 a fronte di 476 pensionamenti eppure la legge vi consentirebbe di fare un turnover a spinto al 100% visto che la spesa per i dipendenti è inferiore al 25% del bilancio però anche qui non lo fate perché come al solito per i motivi che ho detto prima dite che i soldi non ci sono ma i soldi ci sarebbero se voi non sprecaste comunque questa dico il nome Antonella dice ho vinto il concorso al comune di Roma Capitale non spero di essere assunta ma ho maturato il diritto di esserlo le istituzioni romane hanno deciso di non investire sul loro futuro assumere chi ha vinto un concorso deve essere una priorità per Marino e sua giunta intanto passa il tempo e noi invecchiamo no figli no futuro no casa solo attesa sospensione sprecata e una vita che non è quella che merito ed hanno ragione perché su questi concorsi non state investendo avete investito la miseria di 7 milioni e 6 ed ancora caro sindaco stesso argomento gli istruttori amministrativi facenti parte della più grande procedura romana vogliono essere avviati al lavoro abbiamo superato un concorso e non possiamo essere chiamati in 20 o 30 all'anno solo i vincitori dei posti banditi ben 5 anni fa sono 300 le carenze sono tantissime di più sa benissimo che il turnover ecco glielo stanno anche dicendo lo sanno bene anche loro può essere ampliato e che intanto potrebbe farci lavorare a tempo determinato non ci deluda meritocrazia e qualità professionale per rinnovare l'amministrazione ce n'è bisogno finora non si è occupato in prima persona del nostro problema che ne direbbe di iniziare come vede anche loro le hanno detto che il turnover potrebbe essere spinto al 100% ma non lo state facendo perché continuate a sprecare i soldi in altri settori ed ancora sempre 060606 caro sindaco sono una dipendente di Almaviva Contact la società che per 5 anni ha gestito con grande professionalità il servizio 060606 del comune di Roma dal 1 aprile 2015 questo servizio è stato assegnato con modalità discutibili e a dir poco sospette ad un'altra società che lo delocalizzerà e lo farà gestire a lavoratori sottopagati con contratti precari il tutto in nome del costa di meno e quindi va bene così ma il vostro costa di meno costa a noi quasi 300 operatori in mezzo alla strada e un'azienda in ginocchio costretta a licenziare a causa di concorrenza sleale degli altri operanti del settore e del comportamento scorretto della sua giunta che non ha minimamente vigilato sulle condizioni dello svolgimento della gara e sulle conseguenze sull'occupazione delle loro decisioni nella città che governano e non dica che lei non ne sa niente perché ora l'ho messa al corrente e se non farà nulla sarà responsabile quanto gli altri e ne dovrà rispondere se non ha intenzione di farlo ci faccia la cortesia si dimetta e faccia posto a chi ha cuore Roma e i suoi cittadini che lavorano per renderla unica e proprio su questo ci tengo a dire che venerdì con il consigliere Daniele Frongia faremo proprio una commissione per verificare la regolarità di questa di questa gara una lettera è già chiuso il tempo passo la parola al consigliere Frongia lei può andare lei può cinque minuti mi ha chiesto cinque minuti le ho dato faccia leggere queste cose al consigliere Frongia lei può andare tanto è lo stesso gruppo grazie grazie presidente giustamente Fernando molto molto coinciso giustamente giustamente scrivo scrive caro sindaco basta con le somme urgenze ed ha centrato il punto visto che lo stesso assessore Sabella dice che gli affidamenti diretti sottomarino non sono diminuiti ma vorrei chiudere vorrei chiudere con questa lettera con questa lettera che viene da Augusto Augusto Fantini cioè uno dei lavoratori della multiservizi dell'appalto del verde licenziati o meglio la lettera è scritta da sua moglie vorrei leggerla per intero salve a tutti mi chiamo Rosa e sono la moglie di Augusto Fantini uno dei 48 operai che la società Roma Multiservizi è ingiustamente licenziato a settembre di quest'anno dice giustamente perché non è stata inserita in quel bando clausola di salvaguardia loro stanno denunciando quello che gli è successo da sempre e da sempre vengono presi in giro dalle istituzioni che stanno giocando con le loro vite vite di uomini e donne promesse rinvii ma alla fine niente di concreto tanto che questi poveretti stanno andando in tilt loro e chi gli sta intorno stiamo parlando di vite umane non di merci persone arrivate al punto di volersi ammazzare perché non riescono più a guardare in faccia i propri cari sentirsi inutili grazie a chi ci governa non è giusto presidente Renzi sindaco marino voglio far capire che se accadrà qualche tragedia la colpa sarà solo la vostra come mogli mariti amici dei 48 licenziati faremo di tutto per aiutarli e stargli vicino anche cercare tutti gli estremi per denunciarvi mobbing istigazione al suicidio collusione tutto io parlo da moglie di un uomo che cammina che non ha ma non ha più una meta la forza per vivere la propria vita gli avete tolto tutto persino il diritto alla vita io sono una manata oncologica ed ho una bimba da far crescere un mutuo da pagare spese che lo Stato riesce solo ad aumentare sulle spalle di noi gente comune fregandosene se non ci sono le condizioni per ottemperarle la mia famiglia vive con 1200 euro al mese perché io grazie a Dio ho ancora un lavoro che riesca a tenermi stretto nonostante la malattia sia io che mio marito non abbiamo mai avuto paura di lavorare e se mi capita per arrotondare vado anche a fare le pulizie non siamo proprio fannulloni io però devo garantire una casa a mia figlia un pane tutti i giorni e magari qualche volta uno svago che sicuramente non sarà mai come i vostri non mi interessa però non sono invidiosa noi siamo persone semplici e l'unica cosa che desidero dal più profondo è vivere lavorando con dignità dignità la conoscete questa parola ricordate il significato forse è meglio cerchiate studiate e mettete in pratica vi avviso io li ho sentiti questi uomini parlano si fomentano a vicenda e tra loro c'è chi è più disperato di altri tanto da voler dare un ultimatum parlano di Natale perché questa lettera venne inviata al sindaco prima di Natale ma abbiamo fatto Pasqua entro Natale qualcuno di loro vuole fare un gesto estremo gli altri cercano di stargli vicino ma la disperazione è brutta davvero volete delle vite sulla coscienza? io sono esasperata non so quanto mi resti da vivere per la malattia il mio pensiero che mia figlia resti sola non per sua volontà ma a causa della mia malattia e delle istituzioni che hanno illuso mio marito e i suoi colleghi e lo lasciano comunque per strada mi sta distruggendo giorno dopo giorno soprattutto dopo quello che è emerso con gli arresti di mafia capitale troppe persone coinvolte proprio nel settore in cui lavorava mio marito che schifo che amarezza cosa ne potete sapere voi che vivete nel lusso con i vostri agi potete fregarmene e campare tranquillamente lo stesso quando andate in televisione in pubblico fate vedere che vi interessate ai melati ai pensionati ai senza detto ai disoccupati ai rom ma gli orfani agli immigrati ma è tutta facciata presidente Renzi sindaco marino dove siamo arrivati ascoltando mio marito ho capito che i 48 licenziati potrebbero lavorare per ama applicando una legge 147 2013 corretto e allora e c'è anche una nostra mozione votata che è continuata a disapplicare e alla nostra città servirebbero vi prego vi supplico mancano pochi giorni al Natale e nel frattempo siamo arrivati a Pasqua aprite il vostro cuore oltre le vostre orecchie regalate un dignitoso Natale a persone che hanno sempre denunciato la mancanza di trasparenza nella gestione della società in cui hanno lavorato il Natale per noi rischia di essere una tragedia quest'anno e per questo il mio ultimo appello va a sua santità Papa Francesco ci aiuti non chiedo niente di più se non essere ascoltata io, mio marito e i suoi colleghi aiutatemi a sostenerli ad evitare gesti estremi aiutatemi a ridare dignità a questi uomini e a queste donne che stanno chiedendo di riavere un lavoro il cui stipendio massimo era di 900-1000 euro che per le famiglie erano importantissimi vi prego vi porgo i miei saluti ma spero vi facciate vivi perché non ce la facciamo più Rosa questo capitava prima di Natale c'era una nostra mozione di Agosto che continuate a mantenere inottemperata anche in questo è la dimostrazione della vostra incapacità queste persone da Natale le avete portate a Pasqua noi speriamo che vi leviate quanto prima per non vedere altro che 2023 ma soltanto un solo Natale con voi grazie a tutti a tutti a tutti